ben trovati da francesco de leo e benvenuti alla voce della storia i podcast di focus storia l'insegna dello scoprire il passato per capire il presente 21 luglio 1969 ore 2 56 del meridiano di greenwich l'astronauta americano neil armstrong 39 anni il successivo 5 agosto è il primo essere umano a calpestare il suolo della luna e scendendo dalla scaretta del modulo d'atterraggio lamb allunato sei ore prima pronuncia la storica frase è un piccolo passo per l'uomo un gigantesco balzo per l'umanità la missione apollo 11 era cominciata il 16 luglio 1960 con il lancio dalla base spaziale nasa di cape canaveral in florida del razzo saturn 5 armstrong era il comandante della missione colui a bordo dell'astronave il pilota del modulo di comando michelle collins ed edwin boots aldrin che 20 minuti dopo il comandante fu il secondo uomo mettere il piede sulla luna e a scattare quella fotografia la prima impronta umana sulla polvere umana destinata a diventare un'icona storica l'intera missione durò otto giorni si concluse con l'ammaraggio della capsula pollo nell'oceano pacifico mentre in totale i due astronauti camminarono sulla luna per due ore 31 minuti e 40 secondi conquistati dalla luna storia di un'attrazione senza tempo e questo il suggestivo titolo di un libro scritto per raffaello cortina editore da patrizia caraveo un astrofisica di fama mondiale focus storia alla dirigente di ricerca l'istituto nazionale di astrofisica commendatore dell'ordine al merito della repubblica italiana ha chiesto di raccontare l'attrazione per la luna che cattura da sempre l'immaginario collettivo ma non solo anche di cosa significhi vedere il nostro pianeta terra dalla luna e dell'importanza scientifica di quella missione passata alla storia l'attrazione per la luna è a mio avviso qualche cosa di estremamente connaturato all'animo umano la luna è il corpo celeste più vicino a noi è il corpo celeste più facile da osservare e da ammirare ha sempre suscitato reazioni di fascinazione incanto meraviglia la luna è stata sempre considerata una dea da tutte le antiche eh civilizzazioni la luna ha fornito all'umanità il suo primo calendario è qualche cosa che permette di rendersi conto dello scorrere del tempo questo ha fatto sì che nascessero credenze a proposito della luna che regolava la diciamo i cicli della campagna non è affatto vero che la luna sia decisiva per la buona riuscita di una semina o di un raccolto semplicemente la luna dalla tempistica e quindi per si è generalizzato questa idea poi la luna ha affascinato ispirato poeti musicisti artisti in generale ha anche fatto nascere questo meraviglioso filone letterario che è la fantascienza la letteratura di fantasia prima e poi la fantascienza che nasce più o meno con che cerca di dare una realtà una vero simiglianza alla fantasia poi dalla fantasia siamo passati alla realtà dai viaggi sparati da un cannone siamo passati ai viaggi sparati da un potente razzo vettore ma il fascino della luna non ci ha mai abbandonato e continua a non abbandonarci il 16 di luglio pochi giorni fa c'è stata un'eclise parziale di luna e io ero all'osservatorio di capodimonte perché avevo fatto una conferenza e c'erano 300 persone che erano uscite dall'auditorium dell'osservatorio proprio mentre stava iniziando l'eclise il vedere questa luna che era veramente bellissima argentea smangiata poco a poco dall'ombra della terra è veramente stato un momento di grande emozione tutti gli astronauti dicono che la cosa che più li colpisce durante i viaggi spaziali è vedere la terra e quando dico tutti intendo veramente tutti nel senso che ha cominciato Yuri Gagarin che era il primo era evidentemente preoccupato di quello che gli sarebbe successo non era evidente che avrebbe potuto resistere all'accelerazione del lancio a tutti questi fenomeni che adesso sono diventati molto più normali ma allora ovviamente erano tutti dei grossi punti interrogativi e appena in orbita guarda fuori dall'oblò e dice vedo la terra è bellissima allo stesso modo gli astronauti che passano mesi sulla stazione spaziale hanno nella cosiddetta cupola cioè di questa veranda che guarda l'infinito la veranda è rivolta verso la terra e vedono la terra e fanno foto molti riescono a fare dei bellissimi video e è sempre un soggetto estremamente di interesse per il pubblico ovviamente gli astronauti della stazione spaziale internazionale sono da appena 300 chilometri di altezza quindi vedono una parte della terra gli astronauti della missione Apollo sono stati primi che essendosi allontanati molto di più ricordiamoci che la luna è a 384 mila chilometri dalla terra vedevano la terra nella sua interezza e la vedevano stagliarsi contro il nero del cielo questa la chiamavano la biglia blu perché questa sfera blu e bianca brillantissima e specialmente nelle foto dove si vede la terra insieme alla luna si vede il grigio profondo della luna e questo splendore bianco e blu della terra e questo ha fatto nascere si dice la coscienza ecologista la coscienza che viviamo in un pianeta bellissimo e dobbiamo cercare di non rovinarlo di conservarlo per le future generazioni L'importanza è sia scientifica sia tecnologica abbiamo messo a punto delle tecnologie che si sono rivelate importantissime per migliorare la qualità della vita pensiamo alle comunicazioni spaziali che hanno fatto migliorare moltissimo le telecomunicazioni e quindi la nostra possibilità di vedere in tempo reale tutto quello che succede nel mondo ma dal punto di vista scientifico noi abbiamo imparato che la luna è un pezzo di terra analizzando i campioni portati a casa dagli astronauti ci siamo resi conto che la terra e la luna hanno la stessa origine e quindi questo ha fatto nascere la teoria che la luna è nata dall'impatto di un corpo celeste contro la terra molto giovane che era ancora completamente fusa l'impatto ha fatto schicciare in cielo una parte del mantello della terra che poi si è riorganizzato, ricompattato formando la luna ma sulla luna noi abbiamo lasciato degli strumenti in particolare degli strumenti molto semplici che sono degli specchi con i quali abbiamo fatto è da 50 anni che facciamo quello che si chiama il laser ranging cioè la misura della distanza dalla luna grazie alla riflessione di altri laser dalla terra spediamo verso le zone della luna dove sappiamo che ci sono gli specchi dei potenti fasci laser una piccola parte del fascio laser viene riflessa dallo specchio e torna indietro così facendo noi misuriamo la distanza terra e luna con una precisione di qualche centimetro e questo permette di fare degli esperimenti di relatività generale molto importanti quindi andare sulla luna ci ha fatto capire qualcosa di più della storia del sistema solare e ci ha permesso di fare dei test molto raffinati di relatività generale poi abbiamo cercato di capire esattamente come si sia cristallizzata la superficie della luna cioè la geologia del corpo luna ma diciamo le ricadute scientifiche e tecnologiche del viaggio alla luna della missione Apollo sono state moltissime la NASA ha ricavato 160 mila brevetti dalla missione Apollo e ricordiamoci che investire nello spazio è un modo molto astuto di investire i soldi pubblici perché ogni euro investito nello spazio torna indietro moltiplicato per 5 quindi in commercializzazione di prodotti che sono stati sviluppati per lo spazio quindi è un modo veramente intelligente di investire i fondi pubblici per la ricerca abbiamo terminato vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker semplicemente cercando la voce della storia e se vi è piaciuto il nostro podcast scrivetecelo nei commenti cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici ma non dimenticate per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast di iscrivervi al canale in descrizione, proprio sotto il cursore trovate tutti i canali social di Focus Storia e per chi fosse interessato anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi pensate proprio per i nostri ascoltatori del podcast come sempre per scoprire il passato e capire il presente a prestissimo